Ma l'hai sentita la notizia del cavaliere in ospedale? Grazie, sì, la questione di Berlusconi che sta in terapia intensiva Eh sì, di quello che ha preso una brutta malattia Un po' ci godo Ma cosa godi? Un po' ci godo? Ma non ci penso, non ci penso A parte la questione politica, ok? Ma è stato un grande Ma stiamo parlando di un mafioso? Ma è stato un grande, mi l'ha fatto la storia Silvio Berlusconi Berlusconi è un mafioso Ciao Iusess L'avete scoperto? Berlusconi è la leucemia Chi te l'ha detto?